Gladio, che partenza qui al Misano World Circuit? Beh, spettacolo, perché dentro un autodromo non è che succede spesso, quindi è una bella partenza, un po' insolita, ma per l'Italia Bike Festival credo che sia anche un successo anche a livello di pubblico e anche la gara credo che farà la stessa cosa. C'è una bella atmosfera qui, voglia di divertirsi, il ciclismo ammatoriale deve essere questo? Beh, non per tutti, però il divertimento è vero, deve essere questo, soprattutto per chi come me ha già dato tanto, quindi oggi è solo una partecipazione per ammirare un po' anche quello che è il ciclismo attuale, il nostro ciclismo ammatoriale, poi il risultato alla fine è quello che conta di meno.